Ceccuzzi è recuperato per la panchina, ma soprattutto per la prima volta sul campo del Lornano Badesse. In casa San Giovannese c'è l'esordio di Videtta dal primo minuto. Torna sulla linea dei trequartisti Barellini, mentre Falomi è ancora il vertice offensivo. Vicina al vantaggio la Sangio al nono minuto. Gerardini premia la sovrapposizione di Mencagli, traversone basso che ispira Barellini, il quale calcia a lato il rigore in movimento. Rispondono i padroni di casa con Enrico Bono, parimenti impreciso però dal limite su assist delizioso di Chiti. Il cursore di fascia numero tre poi cambia gioco per Sorrentino. Stavolta è la girata nello specchio e Cipriani respinge con i pugni. Ma in chiusura di frazione ecco il vantaggio dei padroni di casa. Corner di Chiti sul montante opposto Svetta-Manganelli sul calzando il proprio marcatore e rendendo inutile il tentativo di Cipriani di salvare la propria porta. La ripresa si apre con la botta da lontano di Migliorini, traiettoria centrale senza problemi per Lombardini. Nota successiva la punizione di Falomi, destro con traiettoria oltre la traversa senese. Ovviamente l'assalto presta il fianco alle ripartenze dei padroni di casa, scambia con Marzeglia e si invola Sorrentino. Cipriani riesce a bloccare la conclusione in due tempi. Attenzione al minuto numero 13. Il Mazzocco chiede un penalty per uno scomposto controllo con le mani in area di Riccobono. Per il direttore di gara è tutto regolare e dal vertice Guidelli in fase offensiva e chirurgico per il 2-0. Inutili le proteste azzurre. Manganelli poco dopo ferma in modo scorretto Faromi sulla lunetta. Già a Monito il difensore riceve il secondo giallo personale e va a fare la doccia lasciando i suoi in 10. La punizione non avrà poi esito. Il Mazzocco ci mette del suo per non riaprire più il match. Arriva infatti il penalty per il fallo di Riccobono su Gelardini. Ma stavolta dagli 11 metri Falomi si fa ipnotizzare dal Lombardini che respinge e poco dopo ancora dal corner il Lornano cala il Tris. Sponda di Riccobono per Capitan Ghinassi e botta di quest'ultimo sotto la traversa. 3-0 e partita in ghiaccio. Nassangio può pensare al prossimo turno, mercoledì in casa contro il San Donato. Altro confronto con un avversario dagli indiscutibili valori tecnici.